Il River reinaugula, diciamo così, con sempre una coppia di giovani, quindi continua l'interesse da parte dei giovani per il centro di Monfalcone. Penso che sia un bel regalo per questo fine mandato. Sicuramente un bel regalo. Chi investe in questa città ha capito due cose. Uno, le opportunità che l'amministrazione ha messo in atto. Voglio ricordare che negli ultimi cinque anni, ma in particolare negli ultimi due, in momenti del Covid, questa città è ancora nello sbilancio apertura e chiusura e ha più 26 attività. Questo è indice anche di un'operazione che è stata fatta sulla città, che ha previsto una fortissima detassazione. Abbiamo diminuito del 50% l'Atari, abbiamo azzerato la Tosa per la tassa occupazione sullo pubblico, per permettere all'attività, soprattutto di somministrazione, ma più in generale anche alle commerciali, di poter lavorare anche all'esterno senza dover pagare la tassa di occupazione sul pubblico, appunto. E abbiamo azzerato la tassa sulla pubblicità, quindi questi sono tutti elementi che hanno ovviamente posto l'attenzione nel venire ad investire a Monfalcone. Queste ritengo che siano ovviamente le conseguenze di una politica virtuosa che mette al centro della città il commerciante e comunque il lavoro. La prima parata con i titolari, come le sono sembrati e quali sono le idee che hanno? Come dovrebbero essere i titolari? Mi sono sembrati molto motivati, hanno delle idee ben precise, ecco questo è importante. Si prende in gestione un'attività con delle idee precise, con un progetto e un programma. Ovviamente il programma me lo hanno esposto, mi pare, non solo ambizioso, ma un ambizioso fattibile, quindi destinato tutto alla qualità del servizio e alla proposta e quindi io ritengo che possono avere un buon auspicio per il loro futuro.